Che dire del Lecce, per la squadra salentina parla nei numeri, 5 vittorie ed una sconfitta nelle prime 6 partite di campionato, meglio in Europa, hanno fatto il Manchester City, l'Alessandria ed il Foggia, capolista del girone C di Lega Pro, l'avversario da battere, non prima però di aver superato la regina, una sfida che ricorda altri palcoscenici, una gara romantica fino al fischio iniziale, poi sarà battaglia tra due squadre e due piazze che hanno fame di categorie superiori. Per molti questo sarà l'anno giusto per il Lecce, che in estate ha cambiato praticamente tutto, affidando la costruzione della squadra ad un calabrese doc come Mauro Meluso, già ex direttore sportivo del Cosenza, una rosa ben calibrata da mister Pasquale Padalino, anche lui nuovo di Zecca, 16 punti in 6 partite, miglior attacco e miglior difesa del girone, una macchina da guerra praticamente imbattibile, che però sembra dipendere troppo dai due bomber, Caturano e Torromino, se non segnano loro il Lecce non vince, è accaduto contro la Casertana in campionato, una parentesi o una costante, basterà bloccare loro due per bloccare i pugliesi, dubbi riservati a Karel Zeman, chiamato ad infilare il quinto risultato utile di fila, Alessio e Buon Passo per la Cineus 24.